This is the way 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 Ho capito Ci troviamo nell'enclave dei superstiti mandaloriani E assistiamo ad un tradizionale battesimo mandaloriano Fortunatamente senza tagli di prepuzzi Ok forse era meglio il taglio di prepuzzi Ma a sbrogliare la situazione arriva a Mando Che ormai è praticamente il Superman dei mandaloriani Salve a tutti Dean porta un pezzo di kryptonite con incisioni nella lingua del suo popolo Forse le famose miniere di mandalor potrebbero essere ancora intatte E se riuscisse a portare prove della bontà di questa ipotesi Immergendosi nelle acque vive potrebbe spiare i suoi peccati Portandola a quel punto a poter ritornare di diritto nella kumpa mandaloriana Dato che come ricorderete essendosi tolto il casco è diventato una posta da schifato e sputato dai suoi simili Ora lo so che non l'avreste mai detto ma se torna a Nevarro per la 750esima volta Oh che carini anche meno teneri anche meno teneri per favore A Nevarro le cose sembrano estremamente migliorate Hanno scansato quell'armadio di Tatiana Hanno eretto una statua al buon robot Brumotti Kimbo è diventato il re della città E mo va in giro nella maniera più pacchiana possibile Mettemogli pure un borsello di prima classe per favore Eh mo si Ma non è tutto rosa e fiori I pirati sono alle porte e vogliono contrattare con il grande capo Ma vogliono farla all'interno di una scuola Bevendo proprio lì dentro Perché quello prima era un pub E quindi loro vogliono trasplettare Ma che cazzo sta succedendo? Ma perché sta scena? Sinceramente lo trovo un po' inopportuno Forse la cosa più inopportuna è che questo non è ondo naca Ma che cazzo è vain? Ma levate va Perfetto In ogni caso il nostro adorabile Pedro Non è qui per diventare uno sceriffo dei quartieri Né per farsi una vacanza È qui perché ha bisogno della buona anima dei Brumotti Per avere un alleato fidato durante l'esplorazione di Mandalore Cerca di riattivarlo Ma qualcosa va storto Oddio ma che cazzo è? No Ma che ve l'ho lanciato come una palla? Ma è pur sempre buon Beh Vabbè A posto Risolto la situazione Mi sento dei dì che questo segmento non ci è servito assolutamente a un cazzo Andiamo avanti Dopo aver visto che non è buono Va su Kalevala Per trovare Bo-Katan nel suo castello E unirsi alla sua causa Però purtroppo non brandendo la Darksaber Ovvero l'arma che consacra il proprietario A diventare il re del popolo mandoriano Il suo esercito si è dileguato Ormai ha perso le speranze Ha perso la voglia di combattere Non crede più nel grande ritorno del popolo mandoriano unito Che dopo le guerre La ronda della morte e la purga Ormai è diventato frammentato E impossibile da riunificare Oltretutto il pianeta è avvelenato dopo i bombardamenti dell'impe- Madonna mia che ansia terribile Dean ancora intenzionato ad aggiustare i brumotti Va da pelimotto per cercare i pezzi necessari Ma a lei gli rifila R5-D4 Ammazza che ricaccione Comunque posso dire che non capisco come fa sta nave a prendere quota così Ma questa è una curiosità mia comunque Arriviamo nei pressi di Mandalore E scopriamo che Dean è nata a Concordia La luna di Mandalore Nonché base principale della ronda della morte Ma questa è un'altra storia Sbarcano sul pianeta che è un disastro R5 si mette al lavoro stabilendo che l'atmosfera è respirabile al 95% Mando e Grogu si addentrano nel sottosuolo Facendosi strada verso le miniere Che cazzo è sta roba oh Non so chi è Non so cos'è Ma sono curioso Grogu sfuggito all'assalto del robot Cerca di liberare il suo compagno Ma Mando lo obbliga a scappare E andare da Bo-Katan a chiedere aiuto Mi piace la positività di Mando Non c'ha la minima idea di chi l'ha catturato Non ha la minima idea di quello che gli vuole fa Eppure manda un messaggero per ricevere aiuto Che ne sai se sarai ancora vivo quando arriverà Bo-Katan Va bene così Positività In ogni caso la bella Bo-Katan senza età Sbarca su Mandalore Grogu la guida verso il luogo del fattaccio Riesce a liberare Mando Sconfiggendo dei trogloditi e il robottello Grazie a Darksaber Che lei a differenza di quel vaialetto Sa brandire come una vera guerriera Mo' Bo-Katan un po' perché è impiedosito dalla volontà di Mando Di arrivare alle acque viventi da solo Senza invece la minima concezione di dove sta Un po' perché obiettivamente non c'ha nient'altro da fare Decide di accompagnarlo Facendogli strada tra le macerie E arrivati alle soglie dell'acqua Din cerca la redenzione Ma sprofonda negli abissi Bo-Katan si lancia in salvataggio A salvare il nostro povero scemo Scoprendo che lì Vi riposa il mito Sauro La creatura simbolo di Mandalore Bo-Katan rimane sorpresa Tubbiosa se quello che ha visto Era un'illusione o la realtà Ma ora che Mando ha espiato le sue colpe E preso prova del suo bagnetto Possono tornare a casa Ma vengono inseguiti da dei Thai E qui Mando ci dimostra ancora una volta Che pure lui sa il fatto suo Se butta in corsa Plana preciso a fianco alla sua nave E distrugge le navi inseguitrici Però Seppure riescono a sovrastarli Gli bombardano tutto il castello Mi dispiace Mi dispiace Era bello Però in fin dei conti Ma che c'è facevi? Bo-Katan Mamma mia che schifo questa Questa la devo togliere Mi sento morire Cambiamo totalmente scenario Siamo a Koruksant E scopriamo che il dottorino Che ricorderete Lavorava con l'impero su Grogu Adesso Lavora per la nuova repubblica Nella sua nuova combricola Di ex imperiali Trovo una vecchia conoscenza Che stava sotto gli ordini di Mockideon Pare sia fuggito Mentre lo portavano al tribunale di guerra Quella era una storia di copertura Io so che l'hanno collegato a Mindflyer Ma che cos'è? Un episodio crossover? Sta ragazza porta Ciruzzo A vedere la città Che a quanto pare C'ha una musichetta Tipo Città dei Pokémon Non me l'aspettavo Con un sant' così Vabbè Gli fa provare Quella prelibatezza Del magnum All'aria abruzzese Gli mostra L'unico pezzo naturale Visibile del pianeta E lo sprona Di inseguire i suoi obiettivi Le sue ricerche Seppur lo porterebbero A violare le regole La nuova repubblica Non vuole che si conducono Ricerche Inerenti alla clonazione Anche perché obiettivamente Fa brutto Ma lui Convinto che il suo lavoro In mano alla nuova repubblica Potrebbe aiutare tanta gente Potrebbe migliorare la vita Delle persone Si convince a farlo Ciruzzo inizia a capire Però Durante il suo lavoro giornaliero Che la nuova repubblica Sta semplicemente Cancellando tutte le tracce Dell'impero Buttando via tutte le ricerche Tutti i progressi ottenuti Facendo cose orribili E questo non riesce ad accettarlo E per questo Insieme alla sua amica Mascolina Si tuffano a pesce Sulla carcassa De uno Star Destroyer Per recuperare Gli attrezzi utili Per continuare Il suo lavoro Aiaiaiaiaiai Lo sapevo Che non si poteva fidare Sta stronzetta E infatti Eccolo qui Catturato da una carpa E sottoposto al lavaggio Del cervello Per cancellare Tutti i suoi ricordi Dell'impero Brava gente Quelli dalla nuova repubblica Eh Questo non mi aspettavo Ma non bastava Ricevere questo trattamento Lei vuole farlo soffrire Ancora di più Friggino reggendogli il cervello ammazza e che t'ha fatto? Nel frattempo che succedeva tutto sto panico Dean e Bo-Katan tornano al clan e vengono considerati redenti entrambi dato che entrambi sono entrati dentro l'acqua e quindi tornano a far parte della loro religione I mandi se allenano Grogu se allena ma che cazzo sto vedendo probabilmente uno dei momenti più bassi della storia di Star Wars meraviglioso il ragazzino che a sto punto secondo me è decisamente un catalizzatore di sventure dopo esser riuscito a perdere contro Grogu attira un pterodattilo gigante che lo arpione lo porta via stavo sempre a vedere Mandalorian eh? Sì? Vabbè la missione nesta puntata è presto detta devono salvare sto ragazzino ma nel mentre che questi si adoperano alla ricerca Grogu che sta iniziando il suo processo di crescita come Mandaloriano viene portato dalla fabbra alla forgia dove rivive il suo passato l'ordine 66 il salvataggio di sto Jedi e la fuga da Koruksant dopo di che riceve il suo secondo pezzo di armatura un dischetto di Beskar si ok fama a breve in ogni caso riescano a salvare il ragazzino se fregano due polli giganti e Bogatan inizia a trovarsi bene con i suoi nuovi compagni eh? con sta nuova religione Fabrizio gli fa uno spallaccio in Beskar usando come simbolo il mitosauro ormai c'è andata in fissa questa bestia eeeeeeeeeee FINE PARTE 1 FINE PARTE 1 FINE PARTE 2 FINE PARTE 2